Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Apsan ha finalmente fatto vedere che esiste l'Apsan Zino Mini Pro. Come ormai sapete questo Apsan che sta arrivando sul mercato, che dovrebbe arrivare a breve sul mercato, super chiacchierato, super atteso perché Apsan ha dichiarato caratteristiche allucinanti, cioè delle caratteristiche che vanno veramente a demolire quello che è il DJI Mini 2, per lo meno sulla carta appunto per quello che sono le caratteristiche dichiarate, però fino adesso non si era mai visto veramente il drone, si era solo visto il rendering in 3D, quindi ovunque si andasse a vedere questo Apsan Zino Mini Pro era sempre un rendering in 3D, ma oggi Apsan ha fatto una live, una live molto alla Apsan, praticamente una patrusciata incredibile perché già solo come è creato il set, come è creato tutto quello che è la live, è proprio in stile Apsan, che ritengo dei patucioni incredibili, anche le inquadrature con le zoomate, proprio c'è una cosa veramente non bellissima, però ha finalmente fatto vedere nella live finita pochi minuti fa l'Apsan Zino Mini Pro 2, l'ha fatto vedere fisicamente, l'hanno messo sulla bilancia, adesso vi faccio poi vedere il video in cui hanno fatto tutto questo e poi ha fatto decollare questo Apsan Zino Mini Pro, l'ha fatto decollare e l'ha lasciato in hovering per un bel po' di tempo e devo dire ragazzi che almeno abbiamo tirato un sospiro di sollievo sul fatto di averlo preordinato e di avere la speranza prima o poi di averlo tra le nostre mani. Adesso vi faccio vedere il video, questa è la parte di video in cui i due presentatori, uno cinese e l'altra ragazza un interprete che traduceva dal cinese all'inglese, che leggeva i vari commenti che arrivavano in live appunto perché era una live, quindi in tutto questo poi il ragazzo cinese ha preso il drone, come vedete l'ha messo sulla bilancia per far vedere che il drone pesa 249 grammi. Dopodiché non so se qualcuno gli ha commentato ma non è che il drone è finto o cose di questo genere perché si vede lui e lei che parlano un po', dopodiché lui riprende il drone, lo accende per far vedere che il drone in quel momento si è acceso e pesa 249 grammi virgola 2 e dopo di questo fanno la cosa più interessante cioè farlo decollare, quindi c'è un terzo ragazzo che prende il drone, il radiocomando come vedete e lo fa decollare in overing. L'overing non è incredibilissimo però c'è anche da dire che sono in un ambiente chiuso quindi il GPS sicuramente non prende quindi è tutto gestito dal comparto tecnico del drone a livello di optical flow, sensori, accelerometro e via dicendo e devo dire che non è male per essere comunque senza GPS. Probabilmente i DJI in quella identica situazione si sarebbe comportato un pochino meglio però devo dire niente male. Quindi ragazzi questo era solo un video veloce perché tanti di voi lo so che erano curiosi di sapere se mai questo Abusanzino avesse preso forma, se esisteva almeno fisicamente, io ero tra quelli perché comunque sperando che le caratteristiche tecniche poi rimangono quelle dichiarate anche se la vedo ancora durissima perché la vedo davvero dura che quelle caratteristiche tecniche ci siano e se ci sono che siano fatte bene. Non lo so staremo a vedere però almeno sappiamo che a livello costruttivo esiste non è più solo un rendering 3d. Quindi ragazzi se questo video questa mia anteprima in cui vi ho portato le prime immagini e il primo volo dimostrativo del piccolo Abusanzino Mini Pro. Vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità così tante prime, voli in FPV, stampe 3d, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Tecumofferte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere alcun video, un volo, una accensione, un test, un tutorial, una novità, ciao!